salve a tutti amici e amiche un breve aggiornamento oggi per un fatto storico unico a detta delle principali testate giornalistiche il primo caccia di quinta generazione russo è stato perso in un'azione di guerra si tratta del su 57 il più avanzato caccia russo quindi vediamo cosa è successo come sempre prima di iniziare cari amici vi chiedo di lasciarmi un mi piace questo aiuta tantissimo il canale l'algoritmo di youtube infatti tiene molto conto dei like ricevuti al video quindi se volete sostenermi oltre a iscrivervi al canale lasciatemi un mi piace perché è fondamentale bene allora le notizie di oggi in generale parlano di un attacco effettuato con droni sull'aeroporto di mozdok in caucaso che per intenderci è qui vi mostro sulla mappa stiamo parlando di oltre 700 chilometri dalla linea di confine e questo aeroporto viene utilizzato dai russi come base per i grossi aeri logistici e i mig 31 che vengono ormai utilizzati esclusivamente per lanciare i missili ipersonici perché i mig 31 sono così lontani dal fronte beh la risposta è semplice è un aereo che ha una pessima manovrabilità quindi ha bisogno di tempo per il decollo salire in quota raggiungere le velocità prossime a mach 2,5 3 per raggiungere quelle velocità tali per lanciare i missili ipersonici la cosa più strabiliante è che nelle immagini riprese da un testimone oculare in zona si vede questo drone sorvolare tranquillamente l'aeroporto prima di scendere e colpire si parla di almeno tre droni di questo tipo a colpire l'aeroporto di mosdok con la stessa modalità al momento non si sa cosa è stato colpito quindi si attendono notizie più precise in ogni caso la totale assenza di difese su questo aeroporto non significa che i russi siano stati necessariamente sprovveduti piuttosto si può giustificare nel fatto che l'aeroporto viene usato anche da aerei di trasporto che possono non avere necessariamente il dispositivo IFF di conseguenza attivare le difese su un aeroporto che vede del traffico di aviazione generale o civile aumenta il rischio di fuoco amico quindi aumenta la coordinazione che va fatta per attivare e disattivare continuamente le difese quindi tutto questo se aggiunto al fatto che l'aeroporto si trova a quasi mille chilometri dal fronte probabilmente i russi non si aspettavano un attacco ma comunque ci sono delle attenuanti poi un piccolo drone a elica è paragonabile a un ultraleggero sono oggetti molto difficili da individuare via radar non avendo oltre che al piccolo motore componenti metalliche ma resta il fatto che un volo per un oggetto così lento di oltre mille chilometri significa che nella difesa russa ci sono parecchi buchi un altro strike ucraino è stato condotto sull'aeroporto di belbach in crimea questo aeroporto è denso almeno per quello che possiamo vedere dalle immagini satellitari dei mesi scorsi è pieno di su 27 mig 29 mig 31 su questo aeroporto le immagini che vi sto mostrando però non sono aggiornate sappiamo che è stato preso di mira più volte dall'inizio del conflitto con attacchi che hanno colpito le infrastrutture le difese della base e le ultime notizie parlano di un mic 31 danneggiato proprio qui altri attacchi sono stati condotti in queste ore sempre in crimea sull'aeroporto minore di sebastopoli e sinferopoli al momento non è possibile avere un quadro chiaro dei danni inflitti che dipenderanno dai dati satellitari che verranno resi pubblici nei prossimi giorni soprattutto perché i russi impediscono qualsiasi ripresa con cellulari e fotocamere che poi vanno trasmessi sui social e poi appunto abbiamo qualche immagine satellitare quella che almeno stata ritrasmessa sui telegiornali di oggi e sulle testate giornalistiche italiane dove si vede un su 57 colpito o distrutto se vogliamo sull'apron sull'area parcheggio immagine di ieri e sull'aeroporto di akhtubinsk airfield che è qui ve lo mostro si tratta di un aeroporto a oltre 600 chilometri dal confine ucraino questa immagine è stata diffusa dall'intelligence ucraina che ha potuto confermare lo strike con i dati dei satelliti occidentali militari quindi prendiamola con il beneficio del dubbio nel senso sapete come la penso quando si tratta di notizie che rimbalzano sui telegiornali sono molto scettico diciamo che la mia posizione personale su questa foto è che sia abbastanza attendibile però non ne sono sicuro al 100% in ogni caso se fosse una notizia vera si tratterebbe del primo su 57 distrutto in un'azione di guerra e fra l'altro adesso preparatevi perché su tutti i telegiornali verrà detto che è stato distrutto un caccia di quinta generazione super aereo invisibile russo mettiamo le cose in chiaro il su 57 è un aereo moderno ma è comunque un aereo convenzionale è il primo tentativo russo di una riduzione della firma radar ma questo avviene solo nella sezione frontale per le caratteristiche di osservi osservabilità radar è un aereo paragonabile a un f18 super hornet un aereo di quarta generazione e mezzo praticamente quindi non è invisibile ed è lontano anni luce dalla tecnologia stealth di un f35 o un f22 resta il fatto comunque che è il caccia più avanzato russo in circolazione e quindi se la notizia fosse vera è una grossa perdita in ogni caso bene ora andiamo avanti e vediamo la situazione sul fronte la situazione aggiornata a ieri alle 18 e 36 riportava un avanzata da parte russa nella zona di chiasi via e volodomia mentre è in corso una controffensiva ucraina nell'area urbana di vovchank dove unità ucraine stanno rinforzandosi nel tentativo di respingere l'avanzata russa le immagini di queste città sono desolanti è stata completamente distrutta i russi avevano già tentato di conquistarla nel 2022 poi respinti indietro e la situazione ad oggi è questa un territorio conteso ma ci sono segnali positivi almeno di un tentativo di ripresa da parte ucraina però vedremo se ci sarà una conferma solo nelle prossime ore questa zona fra l'altro è stata critica fin dall'inizio del conflitto poiché la russia ha cercato di inviarvi le truppe della wagner che però si rifiutarono perché per loro era un suicidio tattico che avrebbe comportato troppe perdite lo stesso poi è successo per le truppe regolari russe da quest'area infatti arrivano un sacco di notizie di soldati che poi sono scappati per abbandonare l'area o arrendersi alle forze armate ucraine questo non lo dico io chiaramente ma è ampiamente documentato dai prigionieri russi e non solo anche dai reporter di guerra di entrambe le parti tra l'altro lascio immaginare ma il trattamento per un soldato russo che finisce prigioniero nelle mani ucraine è migliore di quello di un disertore che finisce in mano russa insomma vi lascio immaginare ovviamente per la televisione russa è tutto a posto e non ci sono perdite in quell'area anzi fila tutto liscio e si va avanti verso la vittoria finale per citare full metal jacket comunque le notizie che provengono da quest'area parlano di un rapporto di perdite russe di 8 a 1 è questo che sia vero o meno se lo prendiamo proprio la larga anche se la verità sta nel mezzo rende un'idea delle perdite di vite umane da deep state website quantomeno possiamo vedere che la situazione è ferma così da cinque mesi e quindi non c'è l'avanzata schiacciante per liberare la città come è stato proposto nella televisione russa da qualche giorno in ogni caso le azioni ucraine sono diventate più aggressive avendo la possibilità di colpire i russi nelle retrovie i loro attacchi si concentrano proprio sulle loro basi logistiche e soprattutto sui convogli di rifornimento questo l'avevo previsto anche nel video precedente se lo avete visto di conseguenza colpire le retrovie e i convogli si traduce in una minore pressione russa sul fronte almeno qui ma in altre aree come ho detto prima l'avanzata russa ha più successo specialmente nell'area di bakhmut e chasi yar dalle immagini satellitari si vede la città di chasi yar divisa in due è territorio di violenti scontri casa per casa con i russi che stanno impiegando il massimo dei loro sforzi proprio per la conquista del centro abitato in un attacco diretto in ogni caso in questi giorni vediamo quanto si era previsto i russi hanno preparato la loro campagna estiva potendo sfruttare il terreno mentre gli ucraini hanno rinforzato come potevano le difese con quello che avevano aspettando gli aiuti e le forniture di armi occidentali di conseguenza questa perdita di territorio e la continua iniziativa russa era prevedibile ad oggi che scrivo questo articolo molti analisti credono che con il cambio di posizione da parte degli stati uniti e l'autorizzazione all'uso delle armi nato in territorio russo questa offensiva russa estiva a est almeno dove a maggiore intensità dovrebbero raggiungere uno stallo entro luglio al sud est i russi hanno conquistato questi campi aperti non riuscendo a passare da sud altre notizie poi confermano che stanno cercando di rinforzare tutta la linea dei ponti che collegano il caucaso alla crimea continuando a posizionare chiatte e barchini nei pressi di questi questo lo fanno perché il materiale ferroso dei barchini e dei chiatte può disturbare la guida dei missili che andrebbero a distruggere i ponti un'altra notizia che forse avrete letto ho visto è che i russi stanno usando motociclette e altri mezzi improvvisati per avanzare questo diciamo che è un po paradossale due anni fa i russi schieravano le loro migliori unità t 90 t 80 e tutti i mezzi più moderni per il trasporto truppe in due anni di guerra li abbiamo visti degradare cioè utilizzano mezzi sempre più vecchi i t 72 e i vecchi apc degli anni 60 oggi usano mezzi raccolti in giro camionette leggere jeep scoperte motociclette cinesi e non posso mostrarvi le immagini perché youtube lo impedisce categoricamente ma vi lascio immaginare cosa succede a una jeep scoperta o un soldato che viaggia in motocicletta quando viene colpito da un drone o finisce su una mina in un'immagine si vedono cinque coppie di soldati su motociclette in un campo diciamo che non sono andati molto lontano ecco non voglio dire altro sono immagini drammatiche e dimostra quanto sia priva di senso questa guerra che con questo modo assurdo di mandare i soldati a morire che non si vedeva probabilmente dalla prima guerra mondiale un'altra notizia che mi ha fatto riflettere è quella di oggi tra l'altro insieme al su 57 è stato vedere uno yak 52 usato dall'aviazione ucraina distruggere un drone russo questo aereo è un addestratore cioè è disarmato viaggia alla velocità massima di 280 chilometri orari è un biposto comunque stato capace di abbattere un drone da sorveglianza russa per un'azione che probabilmente non si vedeva dalla prima guerra mondiale semplicemente il pilota si è avvicinato mentre il passeggero armato con un fucile d'assalto ha preso di mira il drone ci sono inoltre molte immagini di questi giorni con i convogli di rifornimenti russi in fiamme sulle strade con addirittura dei soldati russi che si lamentano del fatto che tutta la logistica a bordo di questi mezzi è andata distrutta e che i rottami rendono difficile il passaggio sulla strada e che non hanno equipaggiamenti per avanzare e non possono fare altro che tornare indietro diciamo che questa cosa ha senso nel senso immaginate che le strade sono l'unico mezzo che si può usare perché i campi attorno sono stati trasformati in campi minati proprio dagli stessi russi comunque queste sono le notizie sul fronte ucraino per concludere in passato non mi sono mai occupato della situazione nella striscia di gaza potrei farlo conoscendo bene e anche meglio le tecnologie militari occidentali però diciamo che preferisco di no sia per una questione emotiva personale che per evitare di sollevare inutili dibattiti politici sul mio canale però vorrei chiudere questo video con una notizia positiva visto che i telegiornali italiani non ne hanno praticamente parlato e oggi sono tutti presi dalle elezioni europee e dalle medaglie d'oro, d'argento e bronzo degli italiani europei allo sport di atletica europea scusate comunque 30 ore fa, sabato mattina le forze di difesa israeliane hanno effettuato una delle operazioni più audaci, complesse e ad alto rischio ma di successo nel corso della guerra contro Hamas salvando 4 ostaggi vivi dalla prigionia la missione è stata condotta in pieno giorno e in un'area dove le forze israeliane non avevano mai precedentemente operato l'operazione per salvare Noah Argamani di 26 anni la ragazza che piangeva sulla moto mentre veniva rapita, se ve la ricordate nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo Almog Meir di 21 anni e Andrei Kozlov, un cittadino russo fra l'altro che faceva la guardia al concerto quel giorno di 27 anni e Shomni Ziv di 41 anni questa azione è stata pianificata con cura l'operazione è stata chiamata Arnon in onore dell'ispettore capo dell'ufficiale capo scusate in onore dell'ispettore capo Yaman Arnon Zmora che fu gravemente ferito dal fuoco di Hamas durante il salvataggio di tre ostaggi e in seguito morì per le ferite riportate tutti e quattro gli ostaggi stanno bene nonostante servizi e torture di questi otto mesi sono molto felice specialmente per quanto riguarda Noah che finalmente è libera e questo è tutto fatemi sapere nei commenti non dimenticate di lasciare un mi piace adesso vi saluto con un abbraccio perché vado a votare e poi spero di fare un bagno il primo bagno al mare alla prossima